Ringrazio, ringrazio Ifer naturalmente per questo nuovo evento, nuovo appuntamento, anticipo e mi scuso per il tono di voce, purtroppo sono stato vittima del male di stagione, qualche giorno che sono un po' raffreddato e quindi mi scuso per questa voce cavernicola, mi auguro in ogni caso che mi sentiate bene e che riusciate a seguire nella maniera ottimale la trattazione odierna. Mi presento per chi non mi avesse mai visto in giro sul web, perché sono un po' di anni che mi occupo di formazione per la pubblica amministrazione su vari temi, tra questi temi in particolare mi occupo della parte dell'accertamento e della riscossione, in quanto fino a un anno fa ero dipendente del Comune di Torino dove ho operato per 34 anni e negli ultimi 15 anni mi sono occupato di gestire il processo del nucleo anti-evasione della Polizia Municipale di Torino, un nucleo che di fatto collabora e ha collaborato negli anni con Ufficio Tributi operando appunto in materia di accertamento ma anche di supporto alla riscossione alla società concessionaria Soris che opera appunto sul territorio del Comune di Torino e oggi in particolare parleremo proprio di questo tema, il tema di come, di quali possono essere le strategie, in particolare la riorganizzazione dei processi che regolano le entrate, partendo naturalmente analizzando tutta la filiera delle entrate, partendo dall'accertamento fino al versamento delle somme dovute. E cercheremo di analizzare qualche strumento per poter incentivare in particolare la riscossione spontanea, cioè strumenti che prima di attivare la riscossione coattiva possono permettere quell'azione di compliance, quell'azione di moral suasion, che faccia in modo tale che il contribuente di sua spontanea volontà vada a divenire al versamento delle somme dovute a titolo di entrata locale. Questi sono un po' gli argomenti che analizzeremo oggi. Analizzeremo appunto il tema della reingegnerizzazione dei processi delle entrate e della riscossione locale, un'azione doverosa perché in modo particolare costituzione, norme costituzionali e quindi riserva di legge e tutte le disposizioni che strutturano le regole presupposti, il soggetto attivo, il soggetto passivo, la base imponibile e le aliquote per quanto riguarda le entrate locali, impongono di ragionare e strutturarsi in particolare sull'organizzazione dei processi che regolano le entrate e la riscossione locale. Parleremo quindi di come progettare un ufficio entrata, cioè di quali sono i presupposti che devono essere analizzati e di quali appunto devono essere le analisi che devono essere compiute, analisi che sono esterne del territorio, quindi specifiche e peculiari per il territorio, e analisi anche della situazione interna, quindi del personale, degli strumenti digitali, dei data warehouse, parleremo un po' di questi temi. Andremo poi nella parte finale appunto a quali sono quegli strumenti che possono concedere di abbattere quelle somme ormai diventate spaventose di residui attivi che si accumulano nel tempo, cioè di somme che vengono accertate all'interno delle amministrazioni comunali e che poi non vanno a versamento perché appunto il contribuente volontariamente decide di non adempiere alla propria imposizione. Un rendiconto molto recente della Corte dei Conti quantificava in 829 miliardi i residui attivi che si stanno accumulando nel tempo e un recupero medio per quanto riguarda il sistema della riscossione pari al 6%, quindi siamo a cifre molto basse, molto inferiori diciamo alle risorse che occorrerebbero per condurre in modo adeguato il governo locale e quindi daremo qualche spunto su quali possono essere gli strumenti per cercare di incentivare questa riscossione. Per rendere quindi più efficace l'azione dell'ente locale per quanto riguarda il processo delle entrate occorre, abbiamo detto, agire sulle misure organizzative che interessano tutta la filiera del prelievo tributario. Bisogna in particolare ragionare a divenire a quell'azione di cambiamento, cambiamento che non deve essere soltanto tecnologico, deve essere un cambiamento anche culturale, cioè le parole d'ordine ormai devono essere l'integrazione delle informazioni e questo è un tema molto importante, molto interessante perché l'integrazione delle informazioni non soltanto attraverso le unità organizzative interne che sono interessate appunto dai processi delle entrate ma anche informazioni che possono essere acquisiti attraverso i database esterni all'ente locale sono strumenti assolutamente strategici per incrementare sia la fase di accertamento, quindi le entrate che vengono accertate, sia la fase di riscossione, produrre valore pubblico quindi attraverso l'integrazione agire appunto sull'output che viene prodotto da questi processi sia a livello interno sia a livello esterno perché abbiamo detto l'integrazione dei processi, delle azioni, di unità organizzative che operano all'interno di un processo possono determinare che una delle unità organizzative costituisca il cliente interno di un'ulteriore fase che viene a monte e che quindi viene svolta da un'unità organizzativa che deve poi dare un prodotto per l'unità organizzativa successiva. Quindi occorre una programmazione di cosiddetto business project management che non deve essere naturalmente frutto di improvvisazione ma deve seguire proprio le logiche che sono tipiche di questo processo di programmazione. In particolare il consiglio che mi permetto di dare è di uscire un po' da quell'organizzazione gerarchica e funzionale soddivisa per compartimenti stagni cioè chi si occupa dell'amministrazione, chi si occupa dei tributi, chi si occupa della parte amministrativa, chi si occupa di polizia locale e chi si occupa di edilizia eccetera eccetera ma orientare diciamo il come dire l'obiettivo da parte della pubblica amministrazione lente locale non all'adempimento formale e all'assolvimento appunto dei compiti istituzionali ma orientarle al cliente. Diciamo che è un po' richiamare quelle politiche di organizzazione del lavoro che sono ormai adottate da anni da parte delle imprese private, strutturarle, adeguarle un po' alla struttura della pubblica amministrazione. Quindi un'organizzazione che deve passare da un'organizzazione che è quella che abbiamo visto prima di tipo funzionale, di tipo gerarchico, da un'organizzazione cosiddetta amatrice. Matrice vuol dire che abbiamo questo tipo di struttura, questo tipo di ragnatela dove sulla sinistra abbiamo questi quadrattini di colore arancione che rappresentano come dire il prodotto, il servizio che deve essere fornito e tutto questo percorso che viene intersecato appunto in quei pallini di colore arancione da quelle unità organizzative che trovate in alto in colore marroncino. Attraverso tutto questo processo abbiamo proprio l'integrazione di tutta una serie di unità organizzative all'interno del processo che deve essere prodotto. Naturalmente il processo di cui stiamo parlando oggi è il processo delle entrate, il processo delle entrate che abbiamo detto deve attraversare tutta la filiera, cioè deve partire dall'accertamento per arrivare fino al versamento delle somme che devono essere dovute. Pertanto dobbiamo programmare come si deve tutto il processo per evitare che gli sforzi che vengono fatti a monte non siano invalidati invece da una mancata efficienza delle attività che vengono fatte a valle, cioè produrre quel valore pubblico che è il cosiddetto output che viene offerto al cliente, abbiamo detto interno ed esterno. Tutte queste tematiche di cui abbiamo parlato non sono altro che l'ottica nella quale si pone il nuovo piano integrato di attività e organizzazione introdotto dall'articolo 6 del DL 80 del 2021 con il quale appunto già a partire dallo scorso anno ci siamo dovuti confrontare perché è stata una grossa novità che ci ha costretto come dire a integrare all'interno dei processi, dei piani che erano già previsti all'interno della pubblica amministrazione a un'integrazione appunto di questi piani per produrre appunto questo piano integrato di attività organizzazione che non fa altro che avere lo scopo ambizioso di migliorare l'azione pubblica quindi di generare valore pubblico e di conseguenza rendere maggiormente efficiente ed efficace l'azione della pubblica amministrazione quindi approfittare di questo nuovo piano integrato che ha proprio questo questo disegno questo disegno di integrare una serie di azioni per produrre un maggiore valore pubblico, approfittare di questo piano proprio per rivedere tutti i processi e cercare di migliorarli sulla base di un'azione di project management. Andiamo a vedere quali possono essere i presupposti organizzativi sui quali bisogna naturalmente puntare l'attenzione per procedere a questa nuova riprogrammazione dei processi. Il primo elemento è quello di effettuare un'analisi territoriale di contesto e la classica azione di analisi che viene fatta in tutti i processi di programmazione pubblica che appunto traggono spunto dal cosiddetto ciclo di Deming che vedremo più avanti nel dettaglio in una slide attraverso il quale appunto si effettua quest'analisi per comprendere quali sono le caratteristiche peculiari del territorio e quali sono le caratteristiche dell'organizzazione interna proprio perché non ci sia un cliché, un comportamento identico in realtà che hanno dei contesti territoriali e di organizzazione interna magari completamente diversi. In particolare per quanto riguarda il processo che regola le entrate, quindi l'accertamento e anche la fase della riscossione dobbiamo effettuare anche un'analisi gestionale, quindi dobbiamo fare una specie di analisi costi benefici per andare a vedere rispetto al tipo di analisi che abbiamo effettuato di territoriale e di contesto, cioè quindi quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione e quindi indirizzare gli accertamenti ma anche la fase della riscossione magari attraverso un'attività di profilazione del nostro debitore che vedremo più avanti e quindi indirizzare l'accertamento ma anche la riscossione rispetto in termini di gettito a quali sono diciamo le entrate che possono portare un maggior beneficio alle casse del bilancio e quali sono le azioni diverse che possono essere intraprese rispetto alle azioni che regolano la fase della riscossione. sulla base delle analisi che abbiamo effettuato andiamo a individuare quali possono essere gli obiettivi che possono essere raggiunti dalla nostra organizzazione, quindi struttureremo l'organizzazione del nostro ente sotto l'aspetto appunto dell'accertamento e della riscossione sulla base di queste analisi che abbiamo fatto precedentemente. Rispetto a queste strategie vediamo un po' di cosa si tratta. Per quanto riguarda l'analisi territoriale abbiamo già anticipato che è un'analisi di tipo economico del territorio, cioè andare a capire quando ci troviamo ad operare in una realtà economica che può essere di tipo prevalentemente industriale, commerciale, turistica, agricola eccetera, come possiamo indirizzare l'accertamento verso quelle categorie più rilevanti per gettito e a maggiore rischio evasione. Facciamo degli esempi. Se ci trovassimo ad esempio in una zona a forte prevalenza di economia turistica, facciamo un esempio banale che può essere ad esempio il comune di Venezia, dove addirittura hanno dovuto limitare l'accesso alla città perché appunto i turisti creano grossi problemi di gestione anche delle strutture pubbliche perché questa grossa invasione naturalmente porta la città a dover dimensionare i propri servizi non sulla base dei propri residenti ma sulla base dei cittadini che giornalmente invadono il suo territorio. In questi territori naturalmente la parte di locazioni turistiche e di conseguenza quelle denunce fittizie che vengono fatte come abitazioni principali, quindi ai fini Imo, ma anche ai fini itali per quanto riguarda il tipo di utilizzo che viene fatto dell'immobile è uno degli obiettivi che ci dobbiamo porre in questi territori. Naturalmente in questi territori abbiamo anche tutta la fase di soprattutto somministrazione alimenti e bevande che vengono effettuati nei confronti di questi turisti. Ecco su queste strutture un'attività interessante rispetto al canone unico patrimoniale, quindi rispetto al solo pubblico e alle iniziative pubblicitarie, magari integrandole con l'azione che può operare la polizia locale sul territorio, parlo naturalmente degli articoli 20 e 28 del codice della strada, che riportano delle sanzioni particolarmente interessanti. In media intorno ai 400 euro si arriva anche a superare i 4.000 euro quando, in particolare rispetto all'articolo 23, quando un impianto pubblicitario a seguito di diffida, un impianto pubblicitario collocato abusivamente a seguito di diffida, non viene rimosso. Naturalmente su questi territori abbiamo parlato di locazioni turistiche, su questi territori generalmente attraverso il regolamento viene introdotto anche un'imposta, un contributo di soggiorno, a seconda dei territori che possono introdurre uno o l'altra forma di prelievo sulle attività ricettive, anche questa è una delle entrate sulle quali occorre concentrarsi. Cambiamo territorio, andiamo su un territorio come può essere il territorio o alcune parti del territorio del comune di Torino, dove ho operato fino a un anno fa. Su questi territori abbiamo il tema degli immobili in categoria D, cioè gli immobili in categoria produttiva, quindi fabbricati per attività industriali, opifici, eccetera. Sappiamo benissimo che per queste categorie la normativa tributaria prevede che la maggior parte delle entrate che derivano dagli immobili categoria D sono destinati allo Stato, fatto salvo l'accertamento che viene compiuto dall'ente locale. Se il maggiore rilievo di un reddito o di una caratteristica che contraddistingue questi immobili in categoria D viene rilevata da un accertamento da parte dell'ente pubblico e dell'ente locale, tutto il maggior gettito è devoluto all'ente locale che ha compiuto l'accertamento. In questi territori ci potremo anche trovare di fronte a grosse trasformazioni urbanistiche che magari hanno coinvolto zone dove prima avevamo categorie particolari di immobili, immobili a destinazione pubblica o utilizzo particolare. Pensiamo ad esempio ai collegi, ai conventi, alle caserme, alle biblioteche, alle case di cura o ad esempio alle stazioni di servizio, alle chiese, all'edicole, ai chioschi, quindi immobili in categoria B ed E, valutiamo anche queste zone del nostro territorio che possono aver subito queste grosse trasformazioni urbanistiche che hanno coinvolto la nostra realtà locale. Cambiamo decisamente panorama, andiamo ad esempio in un territorio agricolo dove naturalmente sottolineo abbiamo la legge 160 del 2019 articolo 1,741.6 che va a distinguere, che effettivamente ha questa distinzione tra i terreni agricoli e le aree fabbricabili. Una sappiamo che gode di agevolazione e esenzioni sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista delle entrate erariali, sia dal punto di vista delle entrate locali, le aree fabbricabili invece anche sotto l'aspetto dell'Imu sono, come dire, sono basi imponibili. Ecco, su questi territori diciamo l'obiettivo è naturalmente puntare su quegli immobili in categoria A6 o D10, quindi quegli immobili che sono abitazioni rurali del coltivatore diretto che conduce direttamente il fondo, oppure in D10, quindi che hanno funzioni produttive connesse all'attività agricola o pastorale, sedicoltura, fungicoltura, quello che è, sia del coltivatore diretto che conduce il fondo, ma anche delle società agricole che appunto gestiscono direttamente il fondo. Qui ho messo la norma di legge che disciplina questa tipologia di esenzione. Andiamo infine ad analizzare quelle porzioni del territorio o quelle realtà locali dove insistono ad esempio dei importanti poli universitari, quindi che attirano molti giovani che si recano presso questi territori, queste città, per essere ospitati in quanto seguono questi corsi universitari. All'interno di queste aree naturalmente il nostro obiettivo di accertamento si deve concentrare rispetto alle verifiche sulle locazioni degli immobili in nero e sulle imposte, scusate, sulle entrate tributarie che sono legate a questa categoria di immobili, quindi le entrate immuettari. Spesso questi immobili che vengono locati a studenti, anche a gruppi di studenti, dietro diciamo l'utilizzo di questi immobili ai fini delle locazioni si c'erano invece abitazioni principali o comodati gratuiti dichiarati concessi in modo gratuito appunto a familiari in mia diretta. Abbiamo detto il ciclo di Deming, quindi il plan, il do, il check e l'act, quindi correggere, poi successivamente che abbiamo fatto l'analisi, abbiamo attuato e abbiamo valutato cosa abbiamo fatto, cosa nel tempo è possibile migliorare appunto per re-ingegnerizzare i nostri processi. Oltre a effettuare questa analisi territoriale abbiamo detto si fa un'analisi anche di contesto, analisi di contesto per registrare in particolare in passato sulla base di analisi sul tax gap, quindi su quali possono essere rispetto al territorio quali entrate garantiscono maggiore solvibilità e maggiore capacità di gettito tributario che può essere indirizzato nei confronti dell'ente locale e un'analisi rispetto a quali risorse umane noi possiamo dedicare alla filiera dell'accertamento e della riscossione, naturalmente intesa, ripeto, come processo complessivo, cioè non parlo solo dell'ufficio tributi, perché ci sono molte informazioni, ad esempio informazioni che può acquisire il SUAP o che può acquisire l'ufficio edilizia, che si occupa del catasto, chi si occupa di polizia locale, che compia certamente sul territorio di natura amministrativa edilizia, acquisisce moltissime informazioni che sono determinanti a, come dire, inquadrare, a costituire delle presunzioni attraverso le quali il comune può determinare o incrementare una serie di basi imponibili. Oltre alle risorse umane, naturalmente occorre fare un'analisi anche dei database che sono disponibili all'interno dell'ente, cioè quali sono le informazioni informatiche digitali alle quali io posso accedere e che possono essere utili a inquadrarmi delle informazioni che poi mi supportano l'accertamento e la riscossione e soprattutto se ho dei data warehouse, quindi dei software che fanno una attività di data mining, quindi di ricerca all'interno di un numero abbastanza importante di dati, anche magari attraverso gli open data, quindi ai big data che vedremo successivamente analizzare quando parliamo dell'open source intelligence, questi data warehouse che cosa fanno? Incrociano queste informazioni e vanno a individuare quali sono le informazioni particolarmente rilevanti sotto l'aspetto dell'accertamento e della riscossione locale. Abbiamo parlato anche di analisi funzionali, quindi di prediligere quei controlli che sono più efficaci indirizzandoli verso quelle categorie di illecito in termini di gettito e di solvibilità. Solvibilità vuol dire andiamo ad analizzare una serie di entrate rispetto ai proprietari di immobili o rispetto ai soggetti che gestiscono delle attività economiche, proprio perché rispetto a questi soggetti è possibile poi produrre delle azioni di riscossione coattiva, quindi di aggressione di patrimoni o di beni immobili e immobili. Ecco, in questa slide io ve ne ho elencate qualcuno, abbiamo l'accertamento mirato alle abitazioni principali, naturalmente alle denunce di abitazioni principali fittizie che possono nascondere, lo abbiamo visto, i casi precedenti. Sappiamo che le abitazioni principali fatta eccezione delle categorie A1, A8, A9 sono esenti da IMO, quindi è un accertamento importante che può determinare delle entrate interessanti e che permette anche successivamente di aggredire il proprietario perché siamo in presenza di proprietari di beni immobili. Abbiamo i fabbricati in categoria D di quali abbiamo già parlato, in particolare in quelle zone ad economia industriale, in quelle aree dove insistono delle zone industriali, abbiamo l'immersione delle aree fabbricabili, abbiamo parlato del tema delle zone ad economia agricola e poi abbiamo anche il tema dell'articolo 1,336 della legge del 2004, quindi della corretta categoria catastale delle abitazioni, perché a titolo d'esempio abbiamo in alcune abitazioni situazioni che rilevano invece all'interno diverse modalità di utilizzo dell'immobile, spesso e volentieri all'interno di immobili denunciati in categoria A1, A2, A3, A4 troviamo degli studi professionali, degli uffici, studi di commercialisti, ragionieri eccetera eccetera. E poi abbiamo anche accennato a questa integrazione tra le entrate da canone unico patrimoniale, appunto che sono state unificate, solo pubblico, iniziative pubblicitarie, dalla disposizione del 2019, dalla legge 160 e gli articoli del 20 al 28 del codice della strada, quindi una sinergia tra l'ufficio entrate e il personale dei corpi e dei servizi di polizia locale. Andando ad analizzare soprattutto quegli enti comunali, quegli enti territoriali che hanno poca capacità di assunzione, quindi che hanno poco capitale umano e scarse risorse per acquisire strumenti digitali, abbiamo naturalmente la possibilità di adoperare gli strumenti che ci vengono offerti dal testo unico enti locali. Mi sembra che in questo programma di accertamento e riscossione che è stato organizzato a IFEL ci sono stati degli interventi anche che hanno approfondito questo tema, quindi mi auguro che abbiate seguito anche i webinar dove il tema soprattutto delle convenzioni, quindi della gestione in convenzioni delle entrate, può essere organizzato tra comuni i quali mettono in forma associata la gestione di un determinato servizio. Il nostro servizio è naturalmente indirizzato allo svolgimento delle fasi che seguono il processo delle entrate, quindi l'accertamento e la riscossione delle entrate locali. C'è la possibilità offerta oltre dall'articolo 30 quindi di svolgere questi servizi in convenzione, l'articolo 32 è quello di unire proprio direttamente una serie di comuni per svolgere unitamente tutte le funzioni e servizi che appunto sono demandate alle amministrazioni locali. È una possibilità offerta dal testo unico enti locali che soprattutto in un periodo storico come questo dove è forte la carenza di personale e di risorse da dedicare in particolare alle entrate che è uno degli aspetti fondamentali e strategici della pubblica amministrazione perché naturalmente se non ci sono risorse economiche che giungono attraverso l'organizzazione efficace delle entrate abbiamo in bilancio pochissime possibilità di investimento o anche di gestire in maniera efficace tutta una serie di servizi che il governo locale deve portare avanti. Questo modello organizzativo è fatto in modo tale appunto da mettere insieme queste criticità che ci sono in queste piccole realtà per rendere ottimale i servizi sul territorio. Quali sono i presupposti? I presupposti che almeno in uno dei comuni che effettuano questa convenzione ci sia un'organizzazione efficace di questo servizio e che ci sia almeno un funzionario che sia specializzato qualificato. Questo non vuol dire che naturalmente una delega di tutte le funzioni tra i comuni che vanno in convenzione al comune che appunto è più organizzato a questo funzionario ma è approfittare del know-how che ha questo comune per diffonderlo agli altri comuni che aderiscono a questa convenzione, a questo comune cosiddetto capofila. Questo che cosa determina? Determina un'azione unitaria di tutte le attività che questi comuni in convenzione svolgono nel processo delle entrate e della riscossione. Quindi la possibilità di uniformare i regolamenti sulle entrate locali, di uniformare la prassi, di utilizzare magari un unico applicativo telematico attraverso il quale è possibile dialogare tra gli enti e i contribuenti. Questi sono i presupposti perché questa adesione a questa convenzione offerta dall'articolo 30 del TUEL possa effettivamente determinare un incremento del gettito per quanto riguarda le entrate locali, ma in particolare rispondere all'esigenza di non vedersi, come dire, erodere tutte le basi imponibili determinate dal fatto che non è possibile, se non in convenzione, operare dei controlli che siano efficaci sui propri territori. Un altro asset in particolare strategico, soprattutto appunto in un periodo storico dove le risorse umane sono scarse, determinate da politica di spending review che hanno, come dire, evitato negli anni di integrare il turnover che si andava determinando all'interno delle amministrazioni locali. Sappiamo che ci sono state iniziative da parte del governo che agevolava la coescenza dei dipendenti pubblici e sappiamo bene che negli anni passati molti hanno approfittato di queste possibilità per, diciamo, andare in pensione. Purtroppo questo personale, ma anche le assunzioni che generalmente venivano intraprese negli anni, sono andate in decrescendo e siamo arrivati a un punto dove in media abbiamo nelle amministrazioni comunali un'età media che ormai si aggira intorno ai 51 anni. L'altro giorno ho visto un rapporto dell'ufficio studi del Ministero dell'Economia e del Lavoro. All'interno appunto della pubblica amministrazione abbiamo questa età media di 51 anni e abbiamo meno del 5% dei lavoratori pubblici che hanno meno di 30 anni. Quindi siamo in una situazione dove, diciamo, il digitale può dare una mano a questa situazione di carenza di capitale umano. L'informazione in generale, non soltanto l'utilizzo del digitale, ma l'informazione, quindi internet, i social media e l'informazione in generale, sono diventati molto importanti e di questo ne siamo coscienti perché, diciamo, le società che ormai nel mondo detengono i maggiori profitti sono proprio le aziende che gestiscono i dati e che gestiscono gli strumenti tecnologici e gli strumenti di informazione di massa in media. La pubblica amministrazione purtroppo su questo tema è molto indietro. Molto si sta facendo con gli investimenti alla digitalizzazione che sono stati incrementati soprattutto in questo periodo di progetti, di risorse collegate appunto al PNRR e ci auguriamo sempre più che questo crescendo di interesse da parte della pubblica amministrazione nei confronti del digitale, ma anche degli strumenti digitali che favoriscono l'integrazione dell'informazione e dei processi aumenti sempre nel tempo. Un tema importante sul quale la pubblica amministrazione sta investendo è quello del piano nazionale dati che permetterà avanti nel tempo di integrare una serie di informazioni tra i più enti proprio per rendere effettivo l'articolo 50 del CAD, il codice dell'amministrazione digitale che appunto dà questa possibilità alle amministrazioni che devono svolgere una funzione istituzionale di accedere alle informazioni che sono detenute nei database di altre amministrazioni. Quindi speriamo che questa piattaforma diventi effettiva e che quindi anche una progressione da parte della pubblica amministrazione nei confronti dell'incremento della digitalizzazione sia, come dire, concreta. Abbiamo parlato di media, di informazioni, di internet, andiamo a parlare dell'open source intelligence. Che cos'è l'open source intelligence? E naturalmente riporta l'acronimo OSINT ed è diciamo uno strumento di ricerca delle informazioni che non si trovano all'interno di database dove noi dobbiamo essere registrati, dobbiamo avere le credenziali e dove ci sono dei termini restrittivi per l'accesso e l'acquisizione delle informazioni, ma si tratta di informazioni che sono liberamente acquisibili attraverso la rete, che si trovano su internet, che si trovano sui social media, si trovano sulle piattaforme dove ci si scambia foto, ci si scambia video, o anche sui mezzi di informazione classici. L'attività è essenziale quando dobbiamo effettuare, ad esempio, una ricerca puntuale rispetto a un soggetto, rispetto a una società, rispetto a una partita IVA, rispetto a un codice fiscale, rispetto ad un telefono. Ecco, semplicemente mettendo uno di questi dati, una stringa di un motore di ricerca, che può essere Google, Bing, Yahoo, ce ne sono vari, determina tutta una serie di informazioni che sono moltissime, informazioni che naturalmente devono essere depurate, che devono essere lavorate, ci sono tutta una serie di tecniche per rendere le informazioni che ci vengono restituite dai motori di ricerca più efficaci e più, come dire, effettive, più determinati per il tipo di ricerca di accertamento tributario che noi possiamo svolgere all'interno del nostro ente. In particolare, un altro strumento che può essere utilizzato, lo strumento degli OSINT, è quello di monitorare, come dire, un'attività economica all'interno di un mercato determinato su un certo territorio, cioè capire se, ad esempio, un volume di affari, una dichiarazione dei redditi, una denuncia che viene effettuata da un certo contribuente che svolge un certo lavoro in un certo territorio, è, diciamo, conforme alla media del mercato che è sviluppato su quel territorio. Si tratta di fonti liberamente consultabili e qui vi ho fatto un elenco, diciamo, molto sintetico di quali possono essere queste informazioni. Pensiamo anche alle informazioni che qualificano la presenza nello spazio di una serie di soggetti, oppure una fotografia della situazione che c'è su un certo territorio. Tenete presente che anche dal punto di vista della giurisprudenza anche le informazioni geospaziali, quindi le fotografie che riportano una data nella quale è stata fotografata, nel quale appunto il mezzo che effettua le riprese per conto di Google ha ripreso un certo territorio. Faccio un esempio, sono state contestate anche delle violazioni per occupazioni di solo pubblico o per iniziative pubblicitarie svolte in modo abusivo senza richiedere l'autorizzazione sulla base di informazioni geospaziali, cioè sulla base di informazioni che sono state acquisite attraverso Google's Review in un certo periodo di tempo. Ci sono state delle sentenze che sono finite anche in Cassazione che hanno qualificato questa tipologia di informazione come qualificata dal punto di vista di supporto all'accertamento tributario. Tenete presente che nel 2016 la stessa agenzia delle entrate attraverso una circolare strutturava appunto una circolare che era un documento di prassi sugli accertamenti che gli operatori dell'agenzia delle entrate potevano effettuare attraverso i media. Questo è un esempio che vi ho fatto, un'attività che ad esempio facevamo a Torino quando ai primi tempi è nata l'esigenza di contrastare soprattutto le locazioni brevi, cioè quelle locazioni con finalità turistiche che hanno un contratto di affitto inferiore ai 30 giorni. Si facevano delle ricerche appunto attraverso i portali di intermediazioni immobiliari o attraverso i siti specializzati dove venivano acquisite le recensioni lasciate dai clienti anche per capire quante erano le tariffe, come si erano trovati, quanti erano i soggetti che erano stati ospitati, per quanto tempo, in che periodi. Questo per qualificare appunto elementi presuntivi che alle volte attraverso i quali appunto venivano contestate delle omesse non solo comunicazioni appunto di inizio attività, ma anche di omessa dichiarazione ai fini dell'imposta di soggiorno. Ci sono, abbiamo detto, delle tecniche di ricerca online di questi dati, perché abbiamo detto che questi dati sono moltissimi, cosiddetti big data, e per restringere l'informazione di ritorno, cioè effettuare quell'attività che viene cosiddetta di matching, andare a individuare qual è l'elemento rilevante che stiamo ricercando, quindi risposte più pertinenti rispetto al dato che dobbiamo ricercare, ci sono delle tecniche. Ci sono delle tecniche, ci sono dei siti specializzati, teniamo presente che tra gli strumenti abbiamo i cataloghi che sono suddivisi per categorie di ricerche che dobbiamo fare o i cosiddetti motori di ricerca che comunemente utilizziamo tutti. All'interno dei motori di ricerca noi abbiamo una stringa, una camicia dove inseriamo una keywords, una parola chiave attraverso la quale poi determiniamo una serie di risultati che il motore di ricerca ci restituisce. Una tecnica comune è quella dell'utilizzo dei cosiddetti operatori boleani. Cosa sono gli operatori boleani? Sono uno o più termini o segni, ad esempio più o meno, che vengono inseriti prima, mezzo o dopo una serie di termini che dobbiamo individuare all'interno della stringa di ricerca, della keywords che dobbiamo inserire all'interno della funzione di search del motore di ricerca, che ci determinano una ricerca più puntuale, ristretta o ampliata rispetto alle parole che noi inseriamo e rispetto alle quali dobbiamo ricercare dati puntuali o dati aggregati. Teniamo presente che la quantità di informazioni che ci restituisce internet e comunque l'attività di OSINT può essere incrementata attraverso l'utilizzo dei metamotori. I metamotori cosa fanno? Non fanno una ricerca ristretta a un unico motore di ricerca, ma integrano più ricerche che giungono da più motori di ricerca. Qui nella slide ve ne ho indicati alcuni, ce ne sono anche altri, ma questa informazione può essere utile per incrementare le informazioni che vi possono aggiungere attraverso gli open data, quindi quei dati che sono aperti, che sono accessibili liberamente a tutti. Uno dei problemi principali della pubblica amministrazione, perché stiamo parlando degli enti locali, quindi della pubblica amministrazione, è non soltanto questa difficoltà culturale di adeguarsi a strumenti digitali che si aggiornano nel tempo, che le volte superano anche nella tecnologia il legislatore che cerca, in primis attraverso il CAD, poi attraverso, adesso ultimamente si agisce attraverso le linee guida di Agid, guida la prassi che devono adeguare le pubbliche amministrazioni per l'utilizzo di questi strumenti digitali, oltre appunto all'incremento, una difficoltà molto grande che troviamo all'interno delle pubbliche amministrazioni, è proprio la frammentazione delle informazioni. Quindi quel superamento di quei cluster, di quell'organizzazione, non soltanto dal punto di vista funzionale, di suddivisione in unità organizzative che svolgono un determinato servizio, ma anche di informazioni che sono gestite, di dati che vengono trattati da queste unità organizzative che non vengono condivisi, cioè che non vengono, alle quali non è possibile da parte di un'altra unità organizzativa accedere. In questa slide vi ho messo questa frase che mi piace molto, che è una metafora che appunto richiama questa esigenza di costruire una vera casa che non è un mucchio di pietre, perché le informazioni che sono detenute da più soggetti è come se fossero delle pietre che noi possiamo anche mettere una sull'altra o sommarle, ma che comunque non ci danno un risultato efficiente, cioè non costruiscono una casa, perché l'organizzazione dei servizi e l'organizzazione anche delle informazioni non è determinante a darci un risultato efficiente. Su questo punto di vista, soprattutto sulla possibilità appunto di avere accesso alle informazioni che sono detenuti in banche dati che sono esterne all'ente locale, vi ho già accennato che l'articolo 50 del CAD ha esteso questa possibilità. Tra l'altro informazioni che dovrebbero essere restituite a titolo gratuito, anche se sappiamo che ancora adesso abbiamo degli enti che creano delle resistenze a restituire effettivamente questi dati senza il pagamento di una prestazione economica. Questi sono un po' gli strumenti che dovrebbero essere adottati, quindi gli strumenti di cruscotto di integrazione dati che attraverso tecnologie di cosiddette machine learning apprendono nel tempo, restituiscono informazioni sempre più pertinenti e incrociano tutta questa serie di dati, dati che vengono acquisiti dai database interni e esterni e dai big data, quindi dalle informazioni open che possiamo trovare attraverso internet. Che cosa fanno questi strumenti? Inserendo all'interno nella possibilità di ricerca un dato soggettivo, cioè il nome di un soggetto, un indirizzo, il nome di una società, un codice fiscale o una partita IVA, mi vengono restituiti dei dati soggettivi, cioè mi collegano alcuni dati che io trovo all'interno di queste banche dati collegate a quel dato soggettivo, ma fanno anche il lavoro contrario, cioè se io all'interno metto dei dati catastali, una partita IVA di una società o il nome di un socio, mi restituiscono i dati soggettivi appunto di tutti i soggetti che sono collegati a quel dato che ho inserito tra i dati oggettivi. Abbiamo detto attività di business project management, quindi facciamo tutta una serie di analisi, ci poniamo degli obiettivi, quindi dobbiamo compiere a un certo punto delle scelte strategiche. Scusate bevo solo un goccio d'acqua perché come vi ho detto sono un po' raffreddato e quindi mi rendo conto che mi si sta un po' seccando la gola. Allora, tra le scelte strategiche che possiamo adottare, possiamo comunque migliorare l'efficienza della gestione delle entrate, vedremo come, favorendo l'adesione spontanea. Oppure se abbiamo una serie di strumenti, tra cui la possibilità di gestire dei data warehouse che mi fanno un certo tipo di ricerca e magari creiamo questa sinergia con la polizia locale, possiamo fare un progetto di contrasto all'evasione tributario locale. Oppure se abbiamo la possibilità di investire maggiori risorse e abbiamo la possibilità di fare degli investimenti economici per l'acquisto di data warehouse che vanno anche ad analizzare gli open data, possiamo dedicarci all'attività di cooperazione incentivata, vedremo di cosa si tratta. L'adesione spontanea, se abbiamo poche risorse, siamo una piccola realtà, possiamo comunque utilizzare delle tecniche di cosiddetto NANGE, cioè di tecniche di miglioramento della comprias col cittadino, delle tecniche di cosiddetto moral suasion, cioè tecniche che avvicinano il ruolo della pubblica amministrazione dell'ente locale ai bisogni del cittadino. Come si può fare questa cosa? Si può fare ad esempio incrementando le modalità di pagamento, cioè fare in modo che il contribuente non diventi matto per pagare un adempimento. Si possono creare delle app oppure gestire sul portale attraverso una specifica area, un'area dove il cittadino può verificare la propria situazione tributaria e attraverso la quale è possibile inviare dei messaggi, degli alert o inviare dei solleciti bonari. E poi anche dare la possibilità al cittadino, soprattutto alle persone che sono più avanti negli anni, di avere un contatto anche telefonico diretto con un soggetto che cura direttamente i processi delle entrate può essere di incremento, soprattutto per i soggetti che non lo fanno condolo, alle volte hanno assenza di informazioni, alle volte si dimenticano, alle volte hanno difficoltà ad adempiere all'adempimento e quindi cerchiamo di venire incontro a queste esigenze. Abbiamo detto è possibile fare un ulteriore passo, quindi andare verso un progetto di recupero dell'evasione dell'illusione locale attraverso i data warehouse oppure la collaborazione con la polizia locale. Andiamo alla cooperazione fiscale incentivata, l'abbiamo citata più volte. Questo tipo di attività presuppone innanzitutto un'attività formativa, perché stiamo parlando di un'attività che istituzionalmente non è svolta dall'ente locale, in quanto in cosa consiste? Consiste nell'inviare delle cosiddette segnalazioni qualificate all'agenzia delle entrate, alla guardia di finanza o all'agenzia delle entrate territorio, in riferimento a possibili situazioni di evasione-illusione per quanto riguarda i tributi erariali. Questo cosa comporta? Comporta in ogni caso che durante le nostre attività istituzionali che svolglievano i nostri uffici è possibile, per chi lavora all'anagrafe, per chi lavora ai tributi, per chi lavora in polizia amministrativa, chi lavora all'edilizia, chi lavora alla polizia municipale, può venire a conoscenza di informazioni fiscalmente rilevanti, cioè informazioni che possono determinare accertamenti tributari per quanto riguarda le entrate erariali che sono rilevanti e quindi arrivare a confezionare una segnalazione qualificata e inviarla telematicamente attraverso sia del punto fisco che il portale dell'agenzia delle entrate dove viaggiano queste informazioni, oppure il portale dei comuni per quanto riguarda l'agenzia delle entrate territorio. Per questo tipo di attività sono previsti degli incentivi, incentivi che possono essere anche indiretti perché attraverso l'emersione di un maggiore imponibile indirettamente io avrò non solo l'individuazione di un soggetto che prima non era noto, quindi anche dal punto di vista delle entrate locali posso rilevare che magari un soggetto non mi ha denunciato una serie di entrate, magari collegate ad immobili dove è emerso magari un reddito fondiario che era sconosciuto, posso accedere a degli incentivi che sono indicati dalle norme che sono quelli che trovate nella slide per quanto riguarda le segnalazioni riferite alle entrate erariali IVA, IRPEF eccetera, ne abbiamo anche altre e per quanto riguarda le entrate catastali ma anche ad esempio le segnalazioni per un diverso utilizzo dell'immobile, quindi un inquadramento di un immobile in una certa categoria oppure un cambio di titolarità del diritto reale sull'immobile che non è stato indicato in catastro. Abbiamo poi questa attività in IMSS che prevederebbe anche una quote di incentivo rilevante per i maggiori contributi riscossi a titolo definitivo ve l'ho messa in azzurro perché di fatto ad oggi dal 2010 in avanti non è mai stato stipulato un protocollo d'intesa tra ANCI e IMSS per portare avanti questo tipo di collaborazione, cioè la collaborazione con gli ispettori del lavoro, generalmente con la polizia locale funziona nel senso che si fanno degli accertamenti insieme ma non esiste questa segnalazione di tipo qualificato, di tipo certificato che permette al comune di introitare delle risorse a titolo di incentivo. Cosa fa la cooperazione fiscale incentivata? Fa entrare maggiori risorse anche in modo indiretto, l'abbiamo detto, aumenta l'adempimento spontaneo perché naturalmente se ci sono più autorità che effettuano controlli in merito alle entrate anche erariali naturalmente il contribuente verrà incentivato ad adempiere perché corre un maggiore rischio di essere sottoposto a verifica. Un aumento della reputazione del valore civico dell'ente perché porta avanti l'equità fiscale quindi rispetto all'articolo 53 della Costituzione e secondo me è un accrescimento anche del consenso sociale perché se io ho più risorse posso ad esempio abbassare le aliquote dei tributi locali o aumentare magari i servizi di welfare che posso fornire al cittadino. Abbiamo la possibilità anche di incrementare l'attività, il processo delle entrate attraverso l'utilizzo di questo strumento offerto dal comma 1091 della legge 145 del 2018 cioè se io adotto se io approvo il bilancio nel termine indicato dalla legge posso utilizzare il 5 per cento delle somme recuperate da certamente i fini immuotari e devolverle ad esempio per l'acquisto di strumenti digitali oppure per incrementare attraverso un trattamento accessorio della retribuzione i funzionari che collaborano appunto all'accertamento delle entrate quindi non solo coloro dell'ufficio tributi, coloro che effettivamente si trovano all'interno di questo processo e che svolgono una serie di funzioni sia per quanto riguarda l'accertamento come vedete delle entrate locali sia per quanto riguarda la parte di accertamento in riferimento ai tributi arabiali. Andiamo al primo momento sondaggio quindi chiamo in in campo il collega di IFEL Alessio Ditta. Eccomi eccomi eccoci eccoci giustino in tempo proprio per farti riposare quei qualche secondo e ci sta tutto. Allora andiamo con il primo sondaggio che abbiamo creato e un attimo di pazienza. Allora ecco qua il primo sondaggio eh che cos'è l'open source intelligence eh raccolta analisi delle informazioni rilevanti liberamente disponibili online attività di incrocio eh attraverso software dei dati presenti nei database interne all'amministrazione comunale ricerca automatica delle informazioni attraverso l'intelligenza artificiale attività di incrocio attraverso data warehouse dei dati presenti nei database interni ed esterni all'amministrazione comunale queste le quattro possibili risposte che giustino ha ha creato e questo insomma piccolo sondaggio eh vediamo un attimino eh che tipo di risultati escono fuori e intanto è giustamente giustino si si riposa qualche secondo visto appunto il questo piccolo malessere di stagione e nel frattempo vedo che eh eh state eh quotando e la la risposta più gettonata quella che garantisce attualmente il novantadue per cento dei risultati è quella che dice appunto la risposta positiva è la raccolta analisi delle esatto rilevanti eh liberamente disponibile online è questa diciamo la 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 risposta più decisamente più giusta è quella che poi ha riscontrato i vostri i vostri favori. Perfetto. Bene io adesso termino il sondaggio giustino eh poi ci vediamo per il secondo sondaggio. D'accordo. D'accordo. Allora passiamo agli strumenti di incremento della riscossione spontanea quindi andiamo alla all'argomento clou della della giornata. Eh la riscossione come sappiamo è volontaria se uno adempia spontaneamente oppure coattiva attraverso una serie di strumenti che sono il ruolo, l'injunzione. Negli ultimi anni appunto c'è stata questa con la legge di bilancio 2020 è stata eh eh potenziata la riscossione locale con il ricorso all'accertamento esecutivo. E poi abbiamo anche gli ordinari mezzi giudiziari cioè quelli che vengono eh attraverso i quali bisogna passare da un giudice. Vedremo più avanti eh che proprio questi strumenti eh possono essere utili ad esempio a venire incontro a quelle eh all'utilizzo fittizio di del fondo patrimoniale oppure eh dell'alienazione fittizia di beni proprio per evitare la riscossione coattiva. Un elemento strategico che può essere utilizzato nella fase di riscossione è quello come abbiamo detto quando abbiamo parlato dell'organizzazione di profilare in via preventiva quali sono le entrate sui quali dobbiamo accertare ma anche che tipo di contribuenti abbiamo che tipo di comportamento hanno avuto in passato rispetto a debiti che avevano accumulato e quindi sulla base di questa profilazione andiamo a creare delle blacklist di soggetti incapienti e andiamo magari a diversificare le azioni della riscossione sulla base del profilo del soggetto debitore. Eh per quanto riguarda l'incremento dell'accertamento in riferimento agli elementi che possono qualificare la riscossione locale abbiamo eh da a partire dal 2020 l'introduzione dell'accesso per finalità eh di riscossione locale alle eh informazioni ai rapporti finanziari del debitore quindi ai dati dei dei conti correnti eh anche se abbiamo la criticità che eh abbiamo il il conto corrente ma non sappiamo se è capiente o meno eh alle volte ci si ritrova di fronte a conti correnti che non hanno anche il saldo attivo quindi è uno strumento che andrebbe migliorato che andrebbe strutturato in maniera diciamo più efficiente anche per arrivare ai pignoramenti presso terzi e nel diciamo nel decreto fiscale di quest'anno si sta lavorando anche a questo tema. Qui vi ho messo appunto l'articolo 18 della legge 111 del 2023 eh la delega fiscale eh che appunto introduce questo tema di eh dare una maggiore efficacia efficienza alla all'azione degli agenti della riscossione perché abbiamo detto i i diciamo il volume di residui attivi cioè di somme che sono accertate che non non sono recuperate da tutta la pubblica amministrazione sta raggiungendo delle cifre preoccupanti e quindi si cerca di venire incontro a questa esigenza di recuperare queste risorse. Abbiamo accennato al NAG soprattutto come strumento di eh incremento della dell'adesione spontanea del contribuente e scopriamo che cos'è. Qui sulla destra vi ho messo il libro che introduce il tema del NAG in italiano spinta gentile eh un libro scritto appunto dall'economista eh Richard Tyler eh il quale all'interno di questo libro faceva presente una serie di tecniche che sono utilizzate soprattutto in ambito commerciale nella comunicazione per spingere utenti consumatori cittadini a effettuare delle scelte senza eh avere coscienza di essere stati come dire indirizzati costretti a compiere quel tipo di scelta. In ambito internazionale soprattutto tributario queste tecniche sono state utilizzate in più territori in particolare nel Regno Unito eh dove venne creato questo gruppo di eh tecnici esperti eh che aveva questo acronicum di BIT eh proprio perché ehm tra i gli instinct che sono gli approfondimenti consigli indicava sette principi per eh che possono determinare queste scelte. Da qui la denominazione di Beiavor il Insigne Team. Ehm questo tipo di eh principi che sono stati introdotti anche in ambito tributario che cosa hanno fatto? Hanno incrementato attraverso strumenti di compliance con il contribuente di cui abbiamo già parlato ma hanno anche determinato una semplificazione e una diversa architettura di costruzione soprattutto degli avvisi bonari che non hanno delle norme eh che eh decidono come devono essere strutturati. Quindi una comunicazione più semplice e più efficace per fare sì che il soggetto comprenda effettivamente il contenuto degli atti che giungano sotto forma di avviso bonario. Tra le tecniche di nudging abbiamo anche appunto oltre all'incremento dell'informazione al contribuente quindi la possibilità da parte del contribuente di avere in tempo reale un disegno della propria situazione tributaria rispetto alla quale può fare delle scelte eh c'è stata anche questa lotteria degli scontrini che è stata un' iniziativa eh da parte della dello Stato eh di eh come dire ampliare la platea di soggetti che potevano controllare una certa categoria di contribuenti. Ricordate eh partecipare a questa lotteria attraverso la richiesta dello scontrino che riportava un codice attraverso il quale eh si potevano vincere dei premi. Questo che cosa determinava? Determinava il fatto che ogni consumatore eh provvedesse a richiedere lo scontrino alla alle all'esercente e quindi ampliava una specie di controllo tributario esteso anche a eh gli stessi consumatori. Per quanto riguarda eh l'incremento delle modalità di pagamento ricordo eh vi ricordo che nella delega fiscale del 2023 è previsto uno sconto del 5% fino a un massimo di mille euro per i muoettari quando eh si fa si decide di effettuare una specie di domigliazione domiciliazione bancaria quindi di effettuare un pagamento ehm attraverso il circuito bancario che ehm che va in automatico. Quindi questa possibilità di incrementare eh gli strumenti di pagamento è un'altra tecnica di nudging che viene utilizzata. Abbiamo detto anche una diversa conformazione dell'avviso bonario che appunto è quel documento che non ha una sua formulazione particolarmente articolate sulla quale si può lavorare per eh incrementare l'adempimento ehm quindi questa propensione ad adempiere ai solleciti che giungano dall'ente impositore. È possibile ad esempio eh sempre come attività preventiva raccogliere una serie di informazioni sul contribuente eh prima di inviare l'avviso bonario. Cioè se io del contribuente so dove lavora, so che tipo di immobili ha di proprietà, che veicoli ha di proprietà e i suoi estremi di conto corrente perché magari li acquisisco tramite i modelli F24 o tramite le possibilità di accedere alla eh agli strumenti eh di accesso ai rapporti finanziari del debitore o eh ad esempio se ha dei contratti di locazione in opera con altri soggetti perché il pignoramento presso terzi può essere fatto anche su eh il pagamento di eh pigioni e di locazioni. Eh queste informazioni volendo possono essere palesate anche direttamente sull'avviso in modo tale da eh allertare il contribuente che nel caso non adempia alla eh appunto all'avviso bonario che gli viene inviato rischia poi una serie di procedure di riscossione coattiva che possono portare anche a privarlo eh di queste entrate o di questi beni dei quali noi gli facciamo presente che siamo già a conoscenza. In ambito internazionale, questo è una una serie di studi che sono stati pubblicati sulla sulla rivista di Economist eh in particolare nel mondo anglosassone eh andando a semplificare moltissime il l'avviso bonario è raddoppiata la riscossione volontaria cioè molto terra terra o pagate o perdete l'auto alla vostra casa. Questo naturalmente lo sto banalizzando ma un po' il concetto era questo. Aggiungendo sul documento di avviso bonario non soltanto il rischio di perdere questa o quel bene ma inserendo direttamente la fotografia dell'immobile di proprietà del contribuente o del veicolo di proprietà del contribuente il numero degli adempienti si è triplicato. Quindi diciamo che dal punto di vista del dell'incremento dell'adesione spontanea sicuramente è stato uno strumento particolarmente efficace. Andiamo a quegli strumenti eh attraverso i quali eh diciamo per effetto degli ordinari mezzi giudiziari è possibile superare quegli stop che possiamo incontrare sul nostro cammino di riscossione quando il debitore eh eh come dire abbia volutamente alienato i propri beni per evitare le procedure di riscossione coattiva. Allora vediamo l'azione revocatoria. L'azione revocatoria è una disciplina eh regolata dall'articolo 2901 del codice civile ed è una azione che può essere messa in campo è un'azione giudiziaria che può essere messa in campo quindi che prevede l'intervento del giudice nei cinque anni eh successivi alla trascrizione aerogico dell'atto di trasferimento e che peraltro non prevede neanche ehm la presenza di un titolo esecutivo. Cioè semplicemente se io ehm ho eh contezza di un debito che è un soggetto ehm nei confronti del quale mi sta maturando questo debito e questo soggetto eh ritengo che abbia effettuato delle azioni, delle donazioni fraudolente creando ad esempio dei fondi patrimoniali o vendendo in forma strumentale i beni magari intestati a soggetti fittizi, a dei soggetti detti interponenti e posso effettuare quest'azione prevista dal 2901 del eh codice eh del del codice civile. Ci sono degli elementi naturalmente che il giudice valuta quando ci sono questi eh ricorsi al al 2901 del codice civile che sono eh una differenza di valore del bene che è stato ceduto notevolmente inferiore a quello di mercato oppure l'immediata vicinanza dell'alienazione del bene con la nascita del debito da parte del soggetto. Questa procedura può essere avviata naturalmente eh se è stata effettuata questa alienazione o creato un fondo patrimoniale il credito naturalmente deve essere anteriore a quando c'è stata questa alienazione e poi ci deve essere la consapevolezza del debitore del pregiudizio che ha recato al creditore. Questi sono tutti gli elementi che il giudice valuta. L'azione abbiamo detto può essere sperita anche in assenza eh del titolo esecutivo. Eh questo è un estratto di un articolo che vi ho riportato di una sentenza della Cassazione eh depositata nel 2019 che appunto concede l'utilizzo dell'azione revocatoria anche da parte dell'agente alla riscossione in merito a una vendita fittizia fatta del contribuente in danno della riscossione di debiti tributari. Un altro strumento è quello della revocatoria semplificata. La revocatoria semplificata è disciplinata dall'articolo 20 29 bis del codice civile e a differenza dell'azione revocatoria in questo caso occorre la presenza di eh cioè bisogna già essere muniti di un titolo esecutivo. Il tempo per intervenire attraverso questo strumento è inferiore rispetto ai cinque anni della eh azione revocatoria qui abbiamo un anno entro il quale eh il termine di decadenza nel quale si può intervenire per eh addivenire all'esecuzione forzata. Abbiamo detto queste azioni soprattutto il l'azione revocatoria è uno strumento per contrastare in particolare la creazione di un fondo patrimoniale vediamo molto velocemente che cos'è un fondo patrimoniale. Uno strumento giuridico inserito negli anni settanta all'interno della riforma del diritto di famiglia disciplinato da questi articoli del codice civile dal 167 al 171. Nato per tutelare i beni familiari nel tempo eh c'è stato un un utilizzo distorto perché trattandosi di beni che hanno una serie di caratteristiche che gli permettono di non essere aggredibili da parte delle eh attività esproprietive è stato utilizzato in maniera fittizia proprio per aggirare le obbligazioni che vengono eh che nascono nei confronti eh in particolare delle pubbliche amministrazioni. È possibile eh intervenire sul fondo patrimoniale eh se viene successivamente appunto l'assunzione del debito eh abbiamo detto che non necessita nemmeno eh l'atto esecutivo ma è sufficiente la consapevolezza di arrecare un pregiudizio nei confronti del creditore è possibile fornire prova anche tramite presunzioni. Teniamo presente lo vedremo poi più avanti che è onere del soggetto debitore eh dimostrare l'effettiva creazione del fondo patrimoniale per i bisogni familiari e eh questa ehm possibile sgravarsi della presunzione che il fondo patrimoniale sia stato creato che ci sia la sua valida costituzione che non sia stato creato per sfuggere fittiziamente alle azioni esecutive della riscossione. Per giurisprudenza maggioritaria l'abbiamo già accennato è molto rilevante la vigilanza temporale nel tempo tra gli atti di costituzione del fondo patrimoniale e eh gli accertamenti o le verifiche tributarie che sono state compiute dall'ente impositore. I crediti possono essere soddisfatti eh quando direttamente quando hanno inerenza diretta immediata con i bisogni della famiglia proprio perché il fondo patrimoniale nasce per tutelare i beni di famiglia se il debito è stato creato ed è da inerenza diretta con i bisogni della famiglia è possibile agire direttamente anche al di fuori dell'azione revocatoria ed è irrilevante che il debito sorga in maniera anteriore eh rispetto alla creazione del fondo. Abbiamo detto è onere eh di prova da parte del soggetto che crea il fondo patrimoniale dimostrare che appunto eh il i beni che si trovano all'interno del fondo sono estranei dalla possibilità dell'aggressione da parte della riscossione coattiva e appunto bisogna dimostrare la sua valida costituzione e ehm l'annotazione effettiva sull'atto di matrimonio. Andiamo al secondo sondaggio e poi terminiamo con l'ultima parte. Alessio mi senti? Andiamo al secondo sondaggio. Mi sentite? Mi date solo? Ah ok vedo una domanda quindi sì voi mi sentite e Alessio che non mi sente. Se Alessio non mi sente andiamo avanti piuttosto. No no ci sono è che purtroppo ho problemi di di ricezione quindi faccio fatica scusatemi eh ho un problema di bande quindi non riuscivo a cliccare sul eh sul tasso guardi eccoci eh arriviamo quindi direttamente al secondo sondaggio e lo lancio allora un po' di pazienza ed era poi in perfetto ordine rispetto a poi alla all'argomento che hai trattato quindi in quale attività e naging puoi incrementare la discussione spontanea nell'introduzione di app e portali come saggistica d'avviso eh delle scadenze tributarie e d'invio dei solleciti eh bonari nella revisione degli atti di bonario d'avviso bonario nell'indicazione sugli atti tributari dei recapiti del funzionario a quale rivolgersi per chiarimenti e informazioni e tutte le attività elencate eh precedentemente quindi nella risposta A, B e C. Quindi qui ci sono tutte le possibili risposte che appunto i colleghi stanno quotando e per poi ecco vedere i risultati e andare verso la fine del della giornata formativa. Eh vediamo che sostanzialmente vi è un una predilizione per l'ultima per l'ultima risposta quindi tutte le attività elencate di poc'anzi quindi nella A, nella B e nella C. Esatto. Quindi c'è un 70% dei partecipanti ha quotato queste mentre un 25% ha ha la prima dato la prima sì certo. No immaginavo nel senso che le risposte sono tutte esatte però l'ultima appunto le le richiama perché si tratta di di tutte tecniche di nudging cioè ci sono il nudging può agire sotto sotto più fronti sul fronte infatti informativo nei confronti del contribuente sulla formazione del sollecito bonario o sull'indicazione di un funzionario attraverso il quale è possibile avere un contatto diretto con l'ente impositore. Sono tutti strumenti per migliorare la compliance e strumenti di moral su esempio. Bene allora andiamo verso poi gli ultimi dieci minuti di di attività formativa. Prego. Allora eh terminato questo sondaggio andiamo sull'ultimo argomento che eh può essere uno strumento ehm sempre per migliorare la riscossione ehm in particolare l'adempimento spontaneo che è l'utilizzo delle sanzioni improprie. Che cosa sono queste sanzioni improprie? Eh l'articolo 15 ter del decreto legge 34 del 2019 che cosa faceva? In analogia al precedente eh articolo 80,4 eh del precedente codice appalti quindi del decreto legislativo c'è in 50 del 2016 il quale inibiva la partecipazione alle procedure di di appalto di affidamento pubblico in caso di mancato rispetto degli obblighi tributari. Quindi escludeva un soggetto giuridico una una eh un soggetto che voleva partecipare a un appalto pubblico o un affidamento pubblico se eh da accertamenti eh si verificava che era debitore nei confronti della pubblica amministrazione di debiti tributari poi venivano qualificati con una certa gravità e quindi sulla base di quello si decideva se ammetterlo o escluderlo dalle procedure di affidamento pubblico. Analogamente a questo strumento sempre con l'utilizzo di sanzioni improprie che non sono sanzioni effettive che prevedono il pagamento di che non so una somma una sanzione pecuniaria effettiva ma inducono indirettamente ad adempiere il soggetto a i debiti tributari eh questa possibilità attraverso l'adozione di un regolamento che recepisce questo articolo 15 ter del DL 34 del 2019 è possibile subordinare il rilascio quindi rilascio ex novo di autorizzazioni concessioni oppure rinnovarle oppure revocarle se ci si accorge che nel tempo questi soggetti che esercitano attività commerciali o produttive non hanno assolto le imposizioni tributari e questo è un tema importante naturalmente è uno strumento che come tutti gli strumenti di cui abbiamo parlato necessita di una condivisione delle informazioni perché bisogna avere naturalmente dei dati aggiornati rispetto ad ogni soggetto che è uno dei contribuenti del nostro ente locale collegare cioè questo soggetto rispetto agli uffici che rilasciano le autorizzazioni di qualsiasi tipo autorizzazioni commerciali autorizzazioni edilizie autorizzazioni di occupazione solo pubblico la pubblicità eccetera eccetera e subordinare il rilascio di queste autorizzazioni e concessioni verificando cioè avendo una possibile database dove diciamo in tempo reale o in maniera aggiornata è possibile rilevare la presenza di debiti da parte di questo soggetto è altresì possibile e questo naturalmente deve essere inserito all'interno dei vari regolamenti che disciplinano in particolare il rilascio delle autorizzazioni e concessioni la possibile revoca delle concessioni e dell'autorizzazione quindi l'azione da parte della pubblica amministrazione di revoca dell'autorizzazione che è stata rilasciata precedentemente quando non viene corrisposta all'entrata magari decidendo per un'annualità due annualità o per più annualità oppure se si verificano più sanzioni rispetto al tipo di autorizzazione che viene rilasciata oppure se rispetto all'autorizzazione che è stata rilasciata io colloco o inizio un'attività in difformità o in contrasto delle prescrizioni che ho individuato all'interno di queste autorizzazioni o concessioni oppure se nel frattempo nascono delle motivazioni ragioni di interesse pubblico che interessano l'azione amministrativa io posso decidere di revocare o evitare il rinnovo delle autorizzazioni e concessioni. Allora io mi sono permesso di fare due cose nell'ultima slide trovate miei riferimenti mail trovate un indirizzo di un sito web che è un sito che gestisco direttamente che ha una serie di aree tra cui anche un'area dove troverete anche dei materiali didattici e un'area di blog dove pubblico una serie di contributi che trattano anche le materie di cui abbiamo trattato oggi questi sono due volumi di una collana editoriale recente dello scorso anno che appunto trattano il tema dell'accertamento, la riscossione delle entrate e in particolare secondo la tutela delle risorse finanziarie locale parla in modo specifico dell'organizzazione dell'ufficio entrate e dell'utilizzo dei database e degli strumenti di OSINT. Quindi se avete piacere potete approfondire questi temi che abbiamo trattato oggi su questi volumi. Questi sono i miei recapiti, assolutamente mi è capitato nella prima edizione sia su questo corso che su un altro corso che ho tenuto sulle attività di collaborazione tra la polizia locale e l'ufficio entrate di avere riscontri da parte di colleghi che mi hanno formulato delle domande che mi hanno fatto piacere, alle quali ho cercato di rispondere il più in fretta possibile compatibilmente con gli impegni che mi assorbono. E dicevo qui ho inserito appunto l'indirizzo del mio sito che è questo vigili di finanza WordPress e poi questo è un canale Telegram sempre gestito direttamente da me sul quale pubblico degli aggiornamenti che possono interessare i temi di cui abbiamo parlato. Io con un filo di voce ho terminato, vi saluto e sono contento di avercela fatta. E niente, mi auguro di aver detto cose interessanti e mi auguro di avere qualche feedback se vi fa piacere.